E' stata approvata in consiglio comunale la delibera con cui si è proceduto alla ricapitalizzazione di Bagnoli Futura, la società di trasformazione urbana che gestisce la bonifica e la riqualificazione dell'area Exitazider a Napoli e che conta 80 dipendenti. Lo strumento con cui si è intervenuti è quello del conferimento della porta del parco, che entra così nel patrimonio di Bagnoli Futura e di conseguenza consente l'ulteriore avanzamento dei lavori programmati. Significa entro la fine dell'anno, per come ci è stato assicurato dal CDA di Bagnoli, il completamento di alcune opere importantissime che finalmente restituiscono almeno parte di quell'area ai cittadini, che sono il Parco dello Sport, la stazione Antondorno con il centro delle tartarughe, la strada e il resto delle opere che portano al parcheggio. Questo significa rimettere in vita, in più c'è il completamento della fase dell'assegnazione dei lotti e i primi soldi che sono venuti dalla Regione per il parco urbano. Quindi andare ad approvare poi la linea strategica per Bagnoli con un'area che viva ha molto più valore. Quindi oggi significa mantenere in vita quello che è stato fatto in questo anno rispetto a una situazione cadaverica che avevamo trovato quando ci siamo insediati.